Salve ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovissimo video, io sono Marduk e oggi vi porto un nuovissimo gioco, FIFA 16 Ultimate Team Ovviamente ragazzi, io sono in Ultimate Team, vi voglio fare una partita così il video sarà diviso in due parti, il primo tempo e il secondo tempo E vedrò, cioè ci saranno due tempi diversi, due video diversi, però sempre sulla stessa partita Allora, oggi andremo a fare delle partite con la squadra casuale Allora, 3, 2, 1, aspetta, vediamo 2, 1 Virus, beh, così Ah, però aspetta, me l'ho fatta l'Italia Ok, Francia, State Regnias Vediamo invece la squadra avversaria Fluminense Ok, belle squadre mi dicono Ok, vediamo un po' i cambi da fare Ok ragazzi, siamo pronti, ho fatto un po' di cambi Ho fatto un po' di cambi Ok, ok, ci siamo Stai iniziando la mia prima partita Su FIFA 16 ragazzi, con voi ovviamente Perché io l'ho già provato Una partita con qualche mio amico Non specifico che comunque è uno degli youtuber miei che conosco Grazie, vediamo un po' che cosa fare Io sono scarsa a FIFA, già ve lo dico Io giocavo a FIFA 14, ora addio Siamo su FIFA 16 Non so se vi porterò delle partite in ultimi team No, comunque Non ci ha tirato mica Tira Che pezzacare le avevo tirato No Ma che stronzo Ma che stronzo Ma che legge E' buon che E' cro... Ma dai Vai, 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 vai Tira No, non ci credo Ma che si è cagato Ha fatto una cagata a spruzzola Proprio E tira Madò Ma non ci credo E... No, non ci credo Però l'aveva quasi toccato il portiere Cioè, ma che cazzo stai a dire Mi è venuto lui appresso Giallo, cioè Ma che cazzo stai a dire Signor Benjamin André Ma va E' tutto francesino Oh mio dio Vai, 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 vai Passa Unicarn zombie apocalypse CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MAMAMA MIA SIGNO MAMA MIA REGÀ Vai passare la telecamera Guarda quante Sexy MAMA MIA SIGNO Guardiamoci L'erdeo Il bubbo bello Madonna Vai L'abbiamo segnato Poi intanto spuntano pom Saluta Che comunque mi porterà anche con lui Delle partite Che Eh? No no non è online Eh partita normale Ho già segnato Eh si Guarda che Guarda che cubo Oh oh era fuori gioco Era fuori gioco si Eh ma questo Raffanculo Ragazzi che culo Era fuori gioco This is my cul Maddo Non si spregano però Queste occasioni Tira Madonna Madonna 1 a 0 siamo comunque E' quasi vita il primo tempo Quindi Vi chiederete Come finirà questa partita In tante Madonna Madonna Mamma mia però Chi è segnato? Joan Fernando Quintiro Quello ha detto che me la regola lui Dai Fai Sio Attenzione Lo youtuber Sio Mamma mia Sio Era Sio Boh Si era sì Tira Maddo Tira 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 Ah fallo No Ma 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 Se abbiamo un fallo Proprio Vai 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 Oh mio dio Oh mio dio Poma mia Vaffanculo Ve lo porto intero Il video Vaffanculo Ve lo porto intero Il video Non mi viene voglia Di tagliare in due pezzi Non mi viene voglia Ve lo porto intero Maddo Va Va Ragazzi Frenazzi Andiamo Io la continuo Perché sono sveghino Dopo non so Cioè Dovro desiderio Se sarà meglio Dividerla in due pezzi Anche se Cioè In realtà non serve Dividerla in due pezzi Quando Si accompagna Di degli youtuber Di video Di dei pezzi Mi dio Mi dio Ah Che stacco di testa Fanto Fanno Passa Vai Passa Vai Madonna Dove Tu Corri Porco Disco Mi dio Vai 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 Ragazzi Se ci ho voglia Ragazzi Vi porto Due partite Ma non credo Che mi verrà molta voglia Di fare due partite Punizione Perché ci sta Cioè Che figo Big FIFA 16 16 proprio Inglesino Ma che figo Lo sperai a terra Non me ne sono accorto Mi stavano per segnare Oh mio dio Vai Calcio Vai 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 Madonna Madonna Signor Madonna Ha svampato Ha svampato Madonna Skill Madonna Proprio Anche se mi funziona Sto per le scherze Perché Perché me Mi ha dato alta Vai Corri Eh vabbè È troppo potente Dai Che gliel'ho fatta Filtrante Mi ha dato Una bomba Tirato E il portiere L'ho la spedita No È proprio lui Che l'ha spedita Proprio su Marte La spedita È su Marte Come un razzo Madonna Crossola dietro Ma è caduto Come un salame Sulla salsiccia Sono senza voce Io oggi Quindi non posso parlare Molto a voce Alta Sentite la mia voce Quando mi avvicino E mi soffro Non è molto Alta Tu vuoi I pastoncini caldi Ok I pastoncini caldi Sto dicendo cose Cazzo Sto dicendo Cose Nel video Molto brutto Vai Vai Madonna Madonna Madosta Bobba No Oh mio dio Che cazzo Oh mio dio Che cazzo Che cazzo Guardate C'è L'aria spinge con i pugni Boom Che scanna Che scanna Regà Ma veramente Che scanna Ci sto credendo Allora Quanto odio Quando fanno Il catenaccio Fa stoffa Il catenaccio Stoffa Già Ma perché Fa ste robe Va Skip E andiamo a vincere Questa partita Anche questa partita Oggi è vinta E Non so perché Ve ne porto un'altra Con squadre Sempre casuali Ragazzi Sì Magliate Esordiente Ok Grazie Ciao 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 Ciao